Abbiamo visto fino adesso una cascata di situazioni eziofisiopatologiche che sono non sempre facili da diagnosticare con certezza e che abbiamo correlato a quello che può essere chiamato il leaky gut che è un termine che adesso è entrato nel mondo accademico. Ma quello che noi vediamo, che voi vedete ogni giorno come medici, come nutrizionisti, come farmacisti e qui tra voi ci sono anche molti farmacisti, sono pazienti con dei sintomi a volte specifici del tratto digerente a volte invece sintomi che possono sembrare generalizzati, sistemici ma che spesso sono correlati a un'origine intestinale. Allora noi possiamo individuare nell'ecosistema intestinale, secondo quello che diceva anche il professor Gasbarini quattro livelli funzionali importanti che sono appunto il lume intestinale, lo strato di muco, lo strato degli enterociti, l'endotelio e la zona sottomucosa. Su questi livelli funzionali noi possiamo agire con i nutrienti e questo è il punto di legame tra la clinica deziofisiopatologia, ricercare la causa e quello che invece è l'intervento che si può fare ogni giorno in maniera semplice con i nostri pazienti a partire da noi stessi, anche nelle nostre famiglie. I nutrienti possono agire su questi livelli funzionali attraverso dei meccanismi molto semplici, la produzione di energia, la conformazione delle proteine giunzionali e la loro regolazione, la fluidità delle membrane, pensiamo agli omega 3, il trofismo del microbioma. Allora un nuovo concetto è nato in maniera spontanea. Possiamo individuare dei nutrienti che possono agire in maniera efficace su questi livelli funzionali che ci possono aiutare a riequilibrare l'ecosistema funzionale. Se è possibile questo, possiamo andare oltre, possiamo trovare dei nutrienti che possano anche aiutarci a tenere bassa l'infiammazione, a contrastare lo stress ossidativo e magari bilanciare delle carenze nutrizionali che sono molto diffuse nella popolazione. I regolatori che mi hanno preceduto hanno individuato molti di questi nutrienti, ne abbiamo accennato per alcuni, alcuni sono stati trattati in maniera un po' più specifica. Tra questi la glutamina che è un aminoacido semi-essenziale è fondamentale per le cellule a rapido ricambio sia come fonte energetica sia come aiuto per la riparazione delle microlesioni. I probiotici, abbiamo detto l'importanza di ceppi che possono essere identificati in maniera certa, che possono essere di sicura azione benefica per l'organismo. Stesso discorso per le fibre. Le fibre non sono tutte uguali. Al sino dell'anno scorso abbiamo visto che è indicato un apporto di 25 grammi al giorno di fibre. Ma le fibre non sono tutte uguali. Ci sono delle fibre inerti che fanno massa, sì, sono importanti per la massa, ma ci sono anche delle fibre che possono avere un'azione trofica sul microbioma, che possono agire da fonte intermedia di energia per gli enterociti. Tra queste sono i fruttoligosaccaridi, le inuline. I malassorbimenti sono molto frequenti e l'EFSA, l'agenzia europea che si occupa di alimentazione, ha individuato dei micronutrienti che hanno un ruolo critico. Tra questi abbiamo visto la vitamina D, lo zinco, il folato, lo iodio. Per la vitamina D si parla di una carenza endemica nella popolazione italiana. Questo è uno studio di Adami che ha redatto le linee guida per le carenze di vitamina D. Vediamo che le carenze sia nei giovani che negli anziami sono superiori al 70-80%. Poi ci sono pazienti ancora più a rischio, i pazienti con la pelle scura, gli immigrati, gli obesi. Sappiamo che il grasso sequestra la vitamina D. Lo iodio. Anche qui abbiamo una carenza abbastanza endemica. Il magnesio. Uno studio francese, Suvimax, ha dimostrato una carenza di magnesio nel 70% della popolazione. In più un quinto della popolazione è geneticamente predisposto per perdere più magnesio di altri. Lo stress ossidativo, anche qui, geneticamente possiamo essere più o meno predisposti ad avere danni da stress ossidativo. Possiamo avere delle difese naturali più o meno forti. Questo dipende dall'alimentazione, dipende dai geni, dipende appunto dallo stress. Però abbiamo dei meccanismi di contrasto, tra cui la coppia acido alfa-lipoico e alfa-didro-lipoico, che riciclano gli antiossidanti più importanti del nostro organismo, come il consima Q10, il glutatione, la vitamina C. Poi ci sono delle sostanze estratte da vegetali, come l'epigallocatechin gallato. L'epigallocatechin gallato ha centinaia di studi a supporto di un'azione benefica sia di protezione contro lo sesso ossidativo sia come protezione dalla proliferazione cellulare. Infiammazione, anche qui possiamo contrastare l'infiammazione tessutale, l'infiammazione sistemica, con delle sostanze naturali come la curcuma. Dalla curcuma, il 5% della curcuma è costituito dalla curcumina, la sostanza attiva, però sappiamo che la curcumina si assorbe poco. Allora esistono dei meccanismi di estrazione della curcumina che preservano gli oli essenziali e che ne aumentano anche di 7 volte l'assorbimento. Gli antichi indiani, 5.000 anni fa, avevano inventato il sistema della piperina, aggiungevano alla curcumina il pepe nero per aumentarne la biodisponibilità. Sistemi più moderni arrivano a decuplicare questo effetto di aumento di assorbimento, ma il concetto è lo stesso, cercare di far entrare a livello cellulare la curcumina. Questo ci ha portato a pensare a un nuovo prodotto, una nuova formulazione che potesse costituire una risposta semplice a quello di cui abbiamo parlato tutta la sera. Ovvero la medicina funzionale, la medicina personalizzata, è una cosa troppo complessa, richiede diagnostiche che sono ancora sperimentali, ricerca. Possiamo cominciare dalle basi ogni giorno con delle cose molto semplici. Cominciamo a mettere a tavola frutta e verdura, cominciamo a inserire dei nutrienti che magari nelle diete squilibrate non sono presenti. Molti degli anziani che incontrate nella vostra attività quotidiana hanno delle diete squilibrate perché l'uomo è un essere abitudinario, prende un'abitudine e ci sono anziani che vanno avanti soltanto con latte e biscotti. Questo non è in grado di fornire tutti i nutrienti di cui abbiamo bisogno. Allora, Nutrimonium è una formulazione bilanciata di nutrienti che può aiutarci a contrastare gli squilibri nutrizionali dell'ecosistema intestinale, colmare le carenze, rafforzare le difese contro lo stress ossidativo e contrastare l'infiammazione sistemica. Qui avete una lista degli ingredienti che abbiamo inserito nella formulazione che è disponibile sia in bustine sia in barattoli in polvere. Qualcuno di voi ha assaggiato il Nutrimonium mescolato con un frutto e l'acqua. Il Nutrimonium può essere assunto mescolandolo con qualsiasi liquido, anche il succo di frutta o latte di riso e latte di soia. Noi abbiamo inventato questo sistema del frullato perché è anche un modo di educare verso un approccio più sano anche all'assunzione dell'integratore. Quello di mescolarlo con un frutto fresco e con l'acqua per avere una bevanda che è anche molto molto gradevole e rinfrescante. Io faccio 8 chilometri di corsa la mattina e poi faccio un frullato con il Nutrimonium. È un modo per avere cura di me stesso, per prendermi cura di me. Nutrimonium ha come ingredienti delle sostanze che hanno delle fortissime evidenze scientifiche. I probiotici, i prebiotici. Ma la domanda che mi fa il professor Gasbarini, il professor Govoni qui e gli accademici sono queste. Chi mi dice che i singoli ingredienti messi assieme in quella formulazione possono essere utili? I singoli ingredienti sì, ma chi mi dice che la formulazione nel suo complesso funziona? E qui entra il ruolo di Metagenics che sta raccogliendo delle evidenze. E sulla prima parte, che è quella della raccolta dei casi clinici, io e i nostri colleghi della Metagenics dobbiamo fare un fortissimo ringraziamento a voi perché molti di voi hanno collaborato al primo e al secondo step di questa fase. Il passaggio successivo è dimostrare un concetto. E questo l'ha fatto il professor Gasbarini, che avete sentito parlare prima, con uno studio di cui vi parlerò adesso. E poi abbiamo fatto uno studio in atleti sani. Avete visto prima in una slide del professor Gasbarini che gli atleti maratoneti hanno, a causa dello sforzo fisico, un aumento della permeabilità intestinale. Vediamo, è possibile, ci siamo chiesti, è possibile allenare l'intestino? Cominciamo dall'inizio. Allora abbiamo raccolto nel 2012 a livello europeo da medici indipendenti una serie di casi clinici con sintomi che sono stati descritti attraverso un questionario. Sintomi specifici intestinali, sintomi aspecifici. Questo studio ha portato un significativo miglioramento dei sintomi sia intestinali sia dell'energia, della resistenza e un miglioramento della qualità della vita, riportato da pazienti. Il sottogruppo italiano ha avuto dei risultati in linea con il gruppo europeo e i sintomi generali sono scesi del 40%, è un dato molto 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 alto, che non ci aspettavamo così tanto. E la cosa interessante è che non solo sono migliorati i sintomi sul tratto digestivo, ma anche sulle articolazioni, sull'energia, quindi un'azione generalizzata. Poi abbiamo fatto un progetto a cui molti di voi hanno partecipato, abbiamo chiamato Nutrimonium Contest, abbiamo fatto a Bologna, Roma, Milano. Abbiamo raccolto da voi 120 casi clinici che sono stati descritti. La Metagenics non vi ha dato suggerimenti. Voi avete provato il Nutrimonium sull'anziano debilitato nel postintervento, nell'anoressia, in casi molto diversi di vostra scelta. Questi casi sono stati raccolti e adesso desideriamo condividerli con voi. Quindi noi faremo una PDF con tutti i casi clinici in maniera anonima, sia il paziente che il medico o il nutrizionista resteranno non anonimi. e verranno condivisi perché così si cresce insieme. Questo è uno studio fatto dal Policlinico Gemelli di Roma che risponde a una domanda precisa. La domanda è questa. Il sintomo descritto risponde molto all'effetto placebo. I pazienti con IBS sono molto soggetti a questa influenza di tipo psicologico. Allora la domanda è questa. Possiamo misurare la permeabilità intestinale? Sì, il golden standard è la misurazione di TA marcato con cromo radioattivo. Allora sono stati selezionati 33 pazienti con IBS diagnosticato, a cui è stato fatto il questionario sulla qualità di vita e sui sintomi, misurata la permeabilità intestinale, fatti due mesi di trattamento con Nutrimonium, rimisurata la permeabilità intestinale con il cromo radioattivo. E qui abbiamo qualcosa di misurabile. Qui i sintomi sono migliorati del 61% e lì ci può essere l'effetto placebo. Ma qualcosa di misurabile come la permeabilità intestinale è qualcosa di molto oggettivo, che secondo noi è molto interessante. C'è un trend alla diminuzione, il trend non ha raggiunto la significatività statistica perché il numero dei pazienti era piccolino e pensiamo che nell'arco di un mese in più avremmo potuto abbattere la soglia del 3% che è una soglia di completa remissione c'è un cutoff del 3% sulla permeabilità intestinale che dice che sotto il 3% è normale. Poi abbiamo fatto uno studio, questa è una cosa straordinaria, con il trail più mitico, l'ultra trail più mitico che c'è al mondo. Ci sono degli atleti che vengono a tutto il mondo che fanno il giro della Valle d'Aosta senza mai fermarsi, sono 330 chilometri e questi atleti camminano di giorno e di notte facendo un dislivello di 24.000 metri. Il più veloce è che ha fatto questa gara in 75 ore, gli ultimi sono arrivati dopo 150 ore saltando 5 notti di sonno e il tasso di ritiri è stato pazzesco perché si sono ritirati 320 atleti su 705 alla partenza. Quindi un tasso di ritiri pazzesco. E molti di questi ritiri erano per cause gastrointestinali, diarrea, vomito, dolori addominali, oltre ovviamente ai problemi osteoarticolari. Allora noi abbiamo detto proviamo ad allenare l'intestino in questi atleti, abbiamo chiesto a 50 volontari di prendere il Nutrimonium per un mese prima dell'allenamento, abbiamo fatto un secondo questionario alla fine dell'allenamento, abbiamo dato il Nutrimonium durante la gara e abbiamo visto cosa succedeva alla fine della gara. Ecco, i risultati sono stati questi. 24 atleti su 47 che hanno completato l'allenamento, 3 si sono ritirati per problemi osteoarticolari durante l'allenamento, quindi non hanno fatto la gara. I 47 che hanno fatto la gara, 24 su 47 hanno avuto benefici dal trattamento con Nutrimonium. E la cosa bella, qui interessante, è che non stiamo parlando di pazienti, stiamo parlando di persone sane. Quindi persone sane che sono abituate ad allenarsi, che sono molto attenti al loro fisico, alle sensazioni del loro corpo, hanno detto di aver avuto non solo meno problemi intestinali, ma anche migliore energia, migliore resistenza allo sforzo. Questo è interessante. Ad oggi abbiamo avuto 43, perché mi è arrivato uno stamattina, 43 questionari e uno solo su 43 del nostro gruppo si è ritirato per motivi intestinali. Adesso confronteremo il dato con i 320 per poter fare un confronto. Però già questi dati, così come sono, sono per noi straordinari. Adesso vorrei rispondere a una domanda implicita che esce fuori continuamente quando parliamo di Nutrimonium. Ma allora Nutrimonium è un prodotto per chi? Per chi ha il Crohn, per la colitocerosa, per le malattie infiammatorie, per l'atleta, per chi è questo prodotto? Noi consideriamo Nutrimonium un prodotto versatile che ha tre livelli fondamentali di applicazione. Uno è l'integrazione di base. Il paziente sano che vuole stare bene, l'atleta, l'anziano, il paziente che fa una dieta sbilanciata, nel posto intervento. Poi c'è il paziente, qua stiamo parlando della persona sana, poi c'è il paziente che ha un disturbo. Stiamo parlando di disturbi funzionali, il gonfiore, l'alveo alternato, una disbiosi che dà sintomi, o l'uso cronico di FANSA. Allora lì è chiaro che i tempi di risposta possono essere diversi, magari bisogna di qualche giorno in più o di qualche settimana. Chi lavora con l'intestino sa bene che mettere a posto un intestino richiede alcune settimane. I miracoli non li fa nessuno. Noi abbiamo già visto risultati nel giro di pochi giorni, però mettere a posto l'intestino richiede settimane se non mesi. E più sono i sintomi, più ci vuole pazienza. Perché magari c'è una remissione, però poi magari uno stress, una situazione di stress fa cadere di nuovo tutto nella patologia. Allora più sono i sintomi, più ci vuole attenzione, più ci sono i sintomi, e più occorre fare dell'approccio integrato. Però noi pensiamo che il Nutrimonium possa essere utile come approccio integrativo a tutti questi livelli. Io vi ringrazio molto per la collaborazione a questa fase di raccolta dei dati e per essere stati qui stasera. Lascio la parola al dottor Saggero che ha moderato brillantemente questa serata per le domande che eventualmente dovessero essere. A dottor Mio. Grazie. Grazie. Grazie.